L'anno 2010, a D7 del mese di maggio, nell'ufficio di segreteria, avanti a me, dottoressa Minissale Giuseppina, segretario del comune di Furcisiculo, si è presentato il signor Clino Francesco, nato a Furcisiculo il 17-12-1956, nominato con atto sindacale numero 21 del 6 maggio 2010, assessore comunale, il quale, come prescritto dalla normativa vigente, ha prestato giuramento pronunciando la seguente formula. Giuro di edempere le mie funzioni con scrupola e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Sì, 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 scusate, ma non resta. Dovremmo? Nel mese di maggio, nell'ufficio di segreteria, avanti a me, dottoressa Minissale Giuseppina, segretario del comune di Furcisiculo, si è presentato il signor Freni Carmelo, nato ad Aliterme il 3 maggio 1947, nominato con atto sindacale numero 20 del 6 maggio 2010, assessore comunale, il quale, come prescritto dalla vigente normativa, ha prestato giuramento pronunciando la seguente formula. Giuro di edempere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Grazie a tutti, grazie a tutti.